e ritrovati ragazzi in questo nuovo episodio di persona 5 royal dovremmo essere al 54 si al cinquanta quattresimo episodio controllo per sicurezza si avevamo lasciati che stavano facendo le missioni di memento avevamo fatto una di quattro e andiamo avanti abbiamo la zona nuova del memento da vedere e fare le altre tre missioni questo episodio cercheremo di portare tutto a termine finire la zona nuova di memento e le missioni e salvare così da poter continuare la prossima volta con social link eccetera tanto mancano pochi giorni al risveglio di futaba è cambiato di nuovo tutto quanto non mi ero mai accorta di quanto fosse inquietante la metropolitana da dentro il treno non si capisce è vero forse è come l'oscurità in tutti i cuori umani sempre presente mai percepito da qui iniziano a lavorare facciamo attenzione uno dei tre bersagli in quest'area se tracciamo questo piano perfetto qui non c'è no cazzo quindi andiamo strano che sono tornati in blu bene se non muore lo catturiamo e così è la fine avrei potuto essere una star diavolo dei raduni una star si dai come quei tizi che si poveoneggiano sul red carpet ehi fa tutto ciò solo perché i nostri sguardi sono incrociati ma è una follia forse dovresti farti controllare il cervello perfetto coron zon o cioron zon cioron zon lo mettiamo al posto di sudama però prima vediamolo resistente agli attacchi fisici assorbe gradibola la luce buono portiamo col primo 20 ce ne sono qua bene quindi parecchie più zone ne troveremo più di uno ma che ti abbiamo perfetto sperando che non muoia vedete in momento sono buoni anche per questo ragazzi per prendere più persone possibile allora parliamo noi non posso concedere il mio potere al primo che passa e così alla fine avrei potuto essere una star ad avot aspetta se muoio qui forse sarà una leggenda di quelle di cui si parla a lungo dopo la loro morte e hai fatto tutto ciò solo perché i nostri guardi sono incrociati è una follia forse dovresti farti controllare il cervello per me così la spaventiamo infatti eh certe volte mi stupisco anch'io di tanta saggezza è una bella una bella scorta di persona eh 24 24 24 24 25 24 c'è davanti ai coglioni è arrivato questo ecco un matto ce l'abbiamo sì sì andiamo subito a posto lo continuiamo dopo avverso il bersaglio più avanti può entrare sì oh è l'ombra di tsuboi non ci si può sbagliare sembra leggermente irritato ho sentito che ha maltrattato degli animali solo per sfogare la sua rabbia non gliela farò passare liscia dopo una cosa del genere ragazzi non andateci piano questo è quello che uccide i gatti gatti che c'entrano i gatti saranno anche morti quando li ho usati per sfogarmi ma al rifugio sarebbero morti lo stesso infatti scommetto che i gatti sono lieti di esserci utili nani sei un essere disgustoso non perdonerò mai uno come te perché non te la prendi con quella gente irresponsabile che porta i cuccioli al canile eh beh fa niente siete supereroi vero allora sbrigatevi a fare a pezzi questa società corrotta ruberemo i tuoi desideri distorti ma prima patirai il dolore che hai causato a quei poveri animali sì eh aspetta sei una specie di gatto mostro ah la la cosa è strana mettiamola così questo è forte questo è forte una debole al fuoco se si si sembra qui si che allora il più questo è più è più è Perfetto. 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 Ah, le statistiche sono cercate. Eh beh, te la facciamo anche noi allora. ciò che ha dato un po cazzo sonno amnesia vertigini e fame vertigini amnesia e non hanno le vertigini sono a cercare no sono vertigini non è Ficca! C'è un'estima, Ficca! E' un'estima! C'è un'estima! C'è un'estima, ma non è che il giusto! Ficca le moore! fatto male perfetto, ciao Daro no, pensavo di sì è stato più dura del previsto e non è ancora morto cazzo non vuol morire come ha fatto morire Morganine sì sì, fallo fuori che ha rotto il cazzo buono, molto buono buono no, non mi interessa questo questo mi interessa bene 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 ahi che male così mi ucciderete devi soffrire quei gatti sono morti a casa tua a causa tua ancora non l'hai capito? mi dispiace cosa dovrei fare? ricordati le cose terribili che hai fatto a quei gatti non ti senti male a pensarci ho fatto cose orribili sono persino peggio di un animale sono un inutile feccia non ti dirò rinuncerà la tua vita ma passerà il resto della tua esistenza con i sensi di colpa perfetto proseguiamo anche perché dovevamo finire le esplorazioni di questo piano dai 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 abbiamo andato un quarto d'ora ora fiorini andiamo a fottere guarda qua abbiamo trovato poi ho preso sta iniziativa non abbiamo furato un'organa porto io non ho abbiamo furato un'organa che male molto male ancora devo farci un po' di punti bravo sabbia sughero pergamena peccato peccato aspettiamo sempre aspettiamo sempre il cazzo buffo come si chiama non il sughero il mercurio abbiamo fatto tutto qua ci mancava una zona e sto ecco la dai 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 e l'ha chiuso a fine giusto bene andiamo a prendersi l'altro timbro siamo a tre solo due ah due sullo stesso piano giusto giusto c'è da un cazzo quasi qua niente niente questo è forte ma di basso più basso nel nostro livello a te che abbiamo se che ti abbiamo a te che abbiamo a te che abbiamo ooo lì ooo 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 vai vai i soldi non ci fanno schifo bene 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 ragazzi ooo 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 ciao ooo 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 metti in mezzo ciccio in mezzo e adesso tocca a me però basta dobbiamo dare a Joker qualcosa e stanno lasciando qua Luce, tutto luce. Perfetto. Allora, prima questo. E' forte Matador, eh. Perfetto. Perfetto. Questa debola è anche la Yapsir. E su soldi. Guarda, prendiamo gli Maldelli per un'acqua benedetta. Fanno gli Maldelli a fottere. Possiamo uscire, bene bene. Punti di esperienza ottenuti. L'uscita, se non lo ricordo male, era di qua. Qua, si. Perfetto. 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 No, facciamo che avrassero gli inforzi qua. Invece no. Perfetto. 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 Voilà. Continuiamoci a un'otto aree. Chissà se questo sarà altrettanto grande. Sì, sarà dieci. Siamo solo alla terzale. Penso che la gita di piacere durerà ancora parecchio. Come fai a chiamarla così? Dagli trego. Yusuke voleva solo fare un commento figo. Speriamo di trovare orsai perché è un botto di fiori. Ok. 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 che mi stai dicendo? vediamo se riusciamo con questo anche se resiste bene bene dato grande Morgana catta bianca che schifo non fa ok, avventuato l'uscita ma finalmente immaginavo che ce ne fosse un altro ne abbiamo 20 qua bene bene è curioso di vedere poi quanti ne avremo di di yen che siamo intrati con 113.000 e qua è racchiuso, perfetto possiamo scendere perfetto quanto siamo? mezz'oretta abbiamo ancora mezz'ora, eh? bene 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 buono buono un altro buco di malvello abbiamo già un gioco di 7 quanta roba verona è stato utile fare sti due episodi nel momento dai non non c'è non 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 Dove se è come prima Si fa verdi facciamo così Ne facciamo prima Qua si scenderà Esatto Ciao Galo No va li vediamo qua Oggetti Non mi interessano Mi interessano queste Allora così abbiamo un incenso Queste le abbiamo non ci servono Prendiamoli Però costa 80 Cazzo prenderli per niente Prendiamo gli incensi Fr Non mi ricordo se è fortuna Forza e resistenza Sigilità Prendiamo Undici Sette tra dieci Uno undici Scritto nelle stelle E fai tutto subito Ciao Galo E andiamo Prendiamo la parte giusta Sì Dovremmo prendere altri 14 punti Se li troviamo tutti Allora il nostro bersaglio in quest'area Ce ne mancano due giusto? Sì Guarda li faremo tutti così Ragazzi Li investiamo male Buono Burteremo via un sacco di fiori Peccato, peccato Ci serve assolutamente il mercurio Buono Combattimento E saranno tre episodi nel momento Se è duro anche questo come combattimento Ok, andiamo Dov'è? Ok, andiamo 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 Perfetto Ok, andiamo 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 Ok, andiamo, ok, andiamo Ok, quindi Ok, andiamo 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 Ok, eiamo Ok, eai Ok, andiamo Ok, e Mal Sì, 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 sì. Sì, sì! Sì! Non l'abbia fatto bene, sapevo che c'era un altro. Non c'è 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 un altro... l'altro con il rimaldello forse ne avevamo un botto per quattro fiori no non ci conviene tenerli posso prendere una cosa da 70 secondi non mi vale la pena veramente attacchi a cazzo fine dell'aria bene e non dovrebbe aprirsi esatto è quello di me jed perfetto ragazzi siamo arrivati anche alla fine di memento non il finale di memento ma fin dove potevamo arrivare quindi torniamo nel mondo reale e chiudiamo l'episodio caldo martedì perfetto ragazzi ragazzi detto questo al solito abbiamo finito le missioni tutte le missioni che avevamo controlliamo vabbè mi sembra di sì abbiamo finito le missioni siamo arrivati alla fine di memento abbiamo 376 mila yen quindi detto questo al solito fatemi sapere cosa ne pensate lasciatevi un commento dicendomi come sta andando a voi su tutto quindi storia romance dove siete arrivati eccetera 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 e io vi ringrazio spero che il video vi sia piaciuto e noi ragazzuoli ci vediamo domani penso che questo sia il pari se non ricordo male quindi esce di sera con un nuovo video ciao ragazzi ciao